Se sei insoddisfatto e in alcuni momenti sei anche in crisi, cerca e trova la tua illuminazione. Detta così sembra semplice, non lo è per niente, però si può fare, si può fare. Ci sono momenti nella nostra vita dove siamo insoddisfatti di quello che abbiamo, ma quasi mai è un discorso di avere cose, ma di quello che abbiamo e di come impegniamo il nostro tempo, come investiamo il nostro tempo. E io nell'ultimo periodo, nell'ultima settimana soprattutto, ho sentito forte più di una volta questo stato di insoddisfazione e anche di crisi. Stamattina ho deciso di prendermi un momento tutto mio, anzi, più che ho deciso, ho fatto una cosa brillante sabato scorso, quando ho deciso di farmi fare una coaching da uno dei miei mental coach. Ebbene sì, ho messo il cappellino da allievo, lui ha messo il cappellino da mental coach, è un grande mental coach e fa parte anche dei formatori dell'accademia mental coach. E niente, io mi sono lasciato coachare da lui e mi sono reso conto, ragionando insieme a lui e soprattutto mi sono reso conto, anche guardando le cose da un punto di vista completamente diverso, quello che era il punto di vista del mio mental coach, che mi poneva delle domande importanti, mi sono reso conto di vivere una forte insoddisfazione. E questo momento di... io l'avevo etichettato in maniera non corretta come nervosismo, era proprio una piccola crisi. E dalla mia esperienza, dai miei studi, ma anche dalla mia esperienza personale, le crisi sono delle opportunità straordinarie. Dietro una crisi c'è sempre un'opportunità potenziale. Potenziale che significa che c'è, ma non è che ti è data gratis. Te la devi andare a conquistare, te la devi andare a cercare. Allora, io lo so che mi dovevo andare a cercare la mia opportunità. E stamattina ho deciso di rinviare tutti gli impegni lavorativi e dedicarmi qualche ora di tempo a me stesso per cercare la mia personale illuminazione. Veramente non stavo neanche cercando quella. Ho deciso di farmi un feedback di tutto questo inizio anno 2021. Da gennaio a giugno il mondo vinci con la mente si è evoluto tantissimo, ho realizzato tantissime cose e ho lavorato in maniera straordinaria, sia per quantità che per qualità. Ovviamente sento un po' di stanchezza dato il periodo, anche data la bella estate. Ma non era solo questo. Avevo bisogno proprio di mettere nero su bianco tutto quello che è andato bene, quello che ancora non è come lo voglio, quindi tutte le aree di miglioramento. E poi soprattutto andare a capire cosa avrei dovuto inserire o cosa avrei dovuto eliminare dalla mia vita per provare di nuovo questa forte soddisfazione e soprattutto per avere di nuovo dentro di me quel fuoco sacro della motivazione che mi ha permesso di fare tutto quello che sto facendo in questo periodo. E quindi ho preso un periodo per me, sono venuto in un posto bellissimo, questo è un posto della mia infanzia, della mia adolescenza, dove venivamo con il gruppo di amici, eravamo tantissimi, si chiamano le Cascatelle, ma questo è un posto troppo bello. Purtroppo in questo periodo non ci sono le Cascatelle, l'acqua non c'è, è troppo secco, non piove da troppo tempo, però è un posto magnifico e paradisiaco, in mezzo al verde come puoi notare, in mezzo ci sono tante tante rocce e prima di iniziare a fare questo lavoro ho fatto una bella passeggiata tra le rocce, nel verde, osservando le cose, come dico sempre io, la mindfulness nella natura, poi c'è un livello di ossigenazione straordinario e poi mi sono messo a scrivere, carta e penna, col cellulare in modalità aereo, perché non volevo essere disturbato da nessuno, era un momento tutto mio, è un momento tutto mio e poi a un certo punto mentre scrivo scrivevo ho alzato gli occhi e ho detto cazzo, cazzo è questo quello che in questo momento mi manca o meglio c'è troppo, ho bisogno di sfoltire, sfoltirò un po' di impegni e mi dedicherò un po' di più a fare alcune esperienze e io ho avuto una grande illuminazione che non vi posso raccontare in questo momento ma che poi molto probabilmente vi racconterò quando l'ho messa in atto. E perché faccio questo video? Perché volevo condividere con te che guardi i miei video su YouTube o sulle altre piattaforme che ci sono momenti in cui se ti prendi un momento per te e ti poni delle domande che siano produttive poi l'illuminazione può arrivare davvero. A volte capire davvero quello che vogliamo, capire davvero quello di cui abbiamo bisogno, che ovviamente è nella nostra portata e sotto il nostro controllo, fa tutta la differenza del mondo. Io ho capito una cosa molto importante in questo momento della mia vita e una cosa che può cambiare completamente i miei livelli di soddisfazione, di appagamento e di godimento. Perché accontentarsi solamente della serenità o di una semplice soddisfazione di qualcosa? Dobbiamo andarci a cercare proprio il godimento, l'esaltazione, l'entusiasmo, la passione. Perché possiamo crearle tutte queste. Abbiamo una sola vita, godiamocela tutta. Abbiamo una sola vita e va vissuta secondo i nostri valori, ma a tutta. Qualsiasi siano le difficoltà del periodo. Io, come tutti del resto, sto vivendo anche delle difficoltà familiari non da poco, dovute un po' al covid, un po' a patologie dei miei genitori e tante tante altre cose. Ma quello che fa la differenza poi dopo è prendersi un momento per se stessi, capire davvero quello che vogliamo e poi fare il passo più importante. Scegliere. Perché la scelta fa tutta la differenza del mondo. E io oggi, qua in questo paradiso terrestre, ho preso una decisione molto importante. Questo video ha un solo obiettivo. Motivarti a prenderti un momento tutto per te. a cellulare spento. Dove ti poni poche e semplici domande. Queste, queste che ora ti racconto. La prima domanda è cosa va bene nella mia vita? Cosa va proprio bene bene? Cosa è come voglio io? La seconda domanda è cosa andrebbe migliorato nella mia vita? O soprattutto, cosa io posso migliorare della mia vita? E scrivo e se mi escono tante cose sul cosa posso migliorare, conviene poi dopo ordinarle dalla più importante alla meno importante, cerchiarne solo una, al massimo due, e poi passare alla terza domanda. Queste cose che vanno migliorate, come le posso migliorare? E inizio ad ipotizzare tante soluzioni. E le soluzioni da ipotizzare sono delle più disparate. Magari ci sono delle azioni pratiche da compiere, ci sono delle abilità da sviluppare, magari anche solo chiedere a qualcuno che già sa come si fa. Oppure magari rivolgersi a un mental coach vinci con la mente perché ci può aiutare davvero o ti può aiutare davvero a fare quel salto di qualità che è necessario per migliorare quell'area. Insomma, scrivi quello che è necessario. E poi l'ultima domanda è cosa ho imparato e soprattutto quale scelta prendo? Qual è la decisione che prendo oggi per migliorare quelle aree? Prendi un momento tutto tuo, svolgi questo esercizio e poi magari nei commenti mi scrivi cosa pensi. Oggi, in questo video così, nato in maniera istintiva, senza scrivere nulla, senza programmarlo, senza nulla, non ti ho fatto neanche il benvenuto in pane di coaching. Te lo faccio ora perché magari qualcuno ci rimane male. E poi, se ti piacciono contenuti del genere, metti mi piace, condividilo con i tuoi amici e se hai qualcuno, qualche tuo amico, qualche tuo conoscente che ha davvero bisogno di un video del genere, condividilo con lui. Io da parte mia ti do un abbraccio affettuoso e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao! Ciao ciao! Grazie a tutti